...ogni partecipante che deve tagliarsi nel potere traguardo potesse come tornare a casa con un pezzettino dei nostri mosaici al collo, come strappandolo appunto dai nostri mosaici. Questa bellissima iniziativa perché Costantino, Stefano, avete parlato con talmente tanto entusiasmo che veramente vi faccio i complimenti, la colonna sonora anche di presentazione di questo maratone, di questo anno un po' particolare.